Ferrara No, grazie Presidente Io credo di dover anche intervenire su questa situazione perché naturalmente il tema della multiservizio servizi, l'ha già detto il Presidente, sta a cuore a tutti sta a cuore a questa maggioranza, si sta lavorando però ieri in alcuni casi, e questo lo devo ribadire io in quest'Aula ho sentito anche degli insulti anche abbastanza pesanti, questo dovremmo condannarlo tutti quanti come i stessi cittadini non dovrebbero, per cui sulla base di questo io non so quali sono le decisioni che comunque prenderà il Presidente però mi sento di dover dire sia di proteggere i cittadini in questo senso quando vengono in modo legittimo protestano però devo anche ribadire e confermessa dire che non è possibile venire qui a insultare il Presidente, io con le mie orecchie ho sentito cose abbastanza pesanti, magari di singole persone per carità, non dico di tutte, che andrebbero in qualche modo evidenziate anche da parte vostra, grazie grazie grazie